Hai poco spazio ma non vuoi rinunciare ad un audio di qualità? La soluzione è la Mini Soundbar Bluetooth SB8310 TV di Trevi. Un sistema compatto con altoparlanti integrati per amplificare l'audio dei tuoi film preferiti. La Soundbar si adatta a qualsiasi ambiente grazie alle sue dimensioni ridotte. Grazie a tutti!